sempre in inghilterra nel 2011 è nato il walking football what is the walking football? è il calcio camminato camminato cioè senza correre piano piano andiamo piano calma con educazione e si è disputata una partita a firenze è durata tre giorni però non bastano 90 minuti ma io sarei fortissimo al calcio camminato ah si e io ma tu pensa che tutti gli ex calciatori potrebbero continuare a fare un calcio camminato quindi tutti sarà felicissimo potrebbero continuare a giocare per sempre infatti ha giocato Eraldo Pecci ma certo grande Eraldo Pecci però dico questo il portiere è seduto a questo punto il portiere gioca da seduto oppure gioca come quello del Subuteo ma non gli conviene perché non so se tu ti ricordi com'è il portiere del Subuteo com'è com'è illuminami il portiere del Subuteo è mosso attraverso un palo che gli viene piantato allora quello non conviene oddio che dolore che dolore